Questa mattina presto, i nostri due amici Giovanni e Tonino già stanno sul muretto sotto al palazzo loro, sotto alla pensilina, a un certo punto c'è uno dei due che è mezzo sordo, Giovanni fa così, a Giovanni e Tonino fa, eh, a senti oggi che ha fa? Che devo sentì? Che ha fa? Che? Che ha fa? Non ho capito, ha fa un culo da toto! La sveglia dei gladiatori di dimensione Suono Roma